Il momento topico, siamo nella grotta di Betlemme, laddove è nato Gesù Bambino, è il momento clou della serata. E allora, dottor Zanzanella, è una forte emozione? Beh, sicuramente. Io personalmente ogni volta che visito questa grotta provo una forte emozione. E allora un bel momento, abbiamo colui il quale interpreta San Giuseppe, un'emozione forte. Veramente un'emozione pazzesca, è stato qua stasera, non ci sono parole. Colei la quale interpreta la Madonna Maria, la mamma di Gesù? Sì, è un onore, può essere solo un onore interpretare la Madonna e la Sacra Famiglia. E qui poi il protagonista assoluto, Gesù Bambino, come si chiama il piccolo? Mario. Mario ha un privilegio rappresentare Gesù, facciamolo vedere, è un bel bambino. Cosa dici Mario? Ci dici niente. E tra per poco.